E' purtroppo deceduto stamattina in ospedale a Chieti il ragazzo recuperato ieri sera sulla maiella dal soccorso alpino e speleologico. Il giovane di 34 anni di Roma era arrivato ieri in Abruzzo con un suo amico per un'escursione in montagna. I due avevano lasciato la loro automobile al rifugio Pomilio verso le 10 di ieri mattina, quando però le condizioni meteo erano già difficili perché stava nevicando e c'era vento. Dal rifugio Pomilio gli escursionisti hanno raggiunto il bivacco Fusco a quota 2455 metri, un percorso impervio su cui il ragazzo che purtroppo è deceduto stamattina in ospedale è scivolato lungo la via del ritorno a causa della presenza di ghiaccio. L'amico, anche lui 34 anni di Roma, ha allertato i soccorsi intorno alle 17 di ieri. Nel frattempo le condizioni meteo erano peggiorate a causa della neve e delle forti raffiche di vento. In più con l'arrivo del buio le temperature erano continuate a scendere. Appena è stato ricevuto l'allarme sono partite dalla stazione di penne di Chieti delle squadre di terra del soccorso alpino. Purtroppo l'arrivo del buio ha impedito all'elicottero di decollare così i soccorritori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero dell'aeronautica militare pronto a decollare dalla base di poggio renatico e che tuttavia per le forti raffiche di vento è stato impossibilitato a intervenire. Nel frattempo si sono messe in cammino sotto la neve e la tempesta di vento anche le squadre del soccorso alpino di Sulmona e L'Aquila in tutto un'operazione che ha coinvolto 25 membri del soccorso alpino e speleologico abruzzese e due medici soccorritori del soccorso alpino. Verso le 20 due ragazzi sono stati raggiunti avevano un principio di ipotermia e uno dei due quello deceduto stamattina era sfinito così è stato soccorso e imbarellato. Purtroppo però durante la discesa il ragazzo è andato anche in arresto cardiaco è stato più volte rianimato dai medici del soccorso alpino e quando la colonna dei soccorsi è giunta al rifugio Pomilio c'era già l'ambulanza medicalizzata che lo ha portato all'ospedale di Chieti. Le sue condizioni però sono sembrate da subito molto gravi e purtroppo stamattina il 34enne deceduto in ospedale.